Sono sempre, sono sempre alla ricerca di condenser microphone e dopo di che questa forma da bottle mic, bottle mic, oh 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 bottle mic arriva alla vostra scatola con bottle mic, molto punto bottle mic, molto punto bottle mic la dimensione della capsula bottle mic come suona bottle mic ai buttanieri non piace il papa e mangiano la pappa il pomodoro e dopo di che questa forma da bottle mic, bottle mic, oh 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 bottle mic arriva alla vostra scatola con bottle mic, molto punto bottle mic, molto punto bottle mic la dimensione della capsula bottle mic come suona bottle mic ai buttanieri non piace il papa e mangiano la pappa il pomodoro ai buttanieri non piace il papa e mangiano la pappa il pomodoro ai buttanieri non piace il papa e mangiano la pappa il pomodoro a